Cava Ferro Prodotti Siderurgici offre cortesia e professionalità. Vienici a trovare in via Cesaro Giovanni X, Cava dei Tirreni. Al giorno d'oggi non ci si può nemmeno aggirare tranquilli per le strade cittadine. Infatti, spiacevoli sorprese, determinate dall'incoscienza e dall'irresponsabilità altrui, sono sempre dietro l'angolo. Ed ulteriore dimostrazione di ciò è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Cava dei Tirreni, nella zona del Trincerone, in prossimità dell'intersezione che collega via Sala a Viale Benedetto Gravagnuolo, delle due parallele della strada statale 18, quella che viaggia in direzione di Nocera. Un'anziana signora infatti stava attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente dell'auto che percorreva la strada, scorgendo la donna, arrestava la corsa per consentirle di attraversare. Ma ecco l'imprevisto. Un motociclista sorpassava l'auto travolgendo la signora. Immediatamente allertati, sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno trasportato la donna all'ospedale Santa Maria dell'Olmo per le necessarie cure. L'episodio ha scatenato le polemiche sui social. Infatti, sin da quando è stato inaugurato il nuovo Trincerone, numerosi cittadini hanno lamentato la scarsa sicurezza della strada, che in particolar modo di notte si trasforma in un vero e proprio circuito, con motociclisti ed automobilisti che sfrecciano senza alcuna tutela per i pedoni. Nel dibattito che si è acceso, in molti hanno chiesto l'intervento delle istituzioni e maggiori controlli delle forze dell'ordine, e magari l'installazione di dissuasori di velocità o di autovelox che possano fungere da freno all'irrazionale smania di velocità. Infatti, l'incidente di ieri non è di certo il primo che si verifica nella zona, e tra l'altro, quotidianamente alle attuali condizioni si sfiorano tragedie. E' dunque doveroso prendere gli adeguati provvedimenti prima che altri cittadini incolpevoli e sfortunati subiscano le conseguenze di una scarsa attenzione ad una rilevante problematica oramai sotto gli occhi di tutti.